Buon pomeriggio e ben ritrovati al consueto appuntamento con l'informazione su Telebari e Radio Bari da Barbara Cirillo. In primo piano la vertenza dei lavoratori della Fondazione Petruzzelli, il sindaco di Bari Antonio De Caro e il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano chiedono un confronto con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali per un'analisi più approfondita della vicenda legata agli esiti delle vertenze promosse dei 180 lavoratori. Prima del 2012 hanno prestato la propria opera in favore della Fondazione Petruzzelli con contratti a tempo determinato. Questa mattina De Caro e Emiliano hanno partecipato alla riunione del CDA data la complessità della questione. Hanno dichiarato che potrebbe avere riverberi negativi sull'esistenza stessa della Fondazione. Riteniamo necessario avviare un confronto anche perché oltre alle questioni di natura finanziaria potrebbe essere necessario un intervento sul piano normativo. E ora torniamo a parlare della inidoneità della sede dell'AMGAS SRL che costa le casse della partecipata ben 80 mila euro l'anno. Le opposizioni in Consiglio Comunale promettono battaglia. Ci dice tutto Serena Russo. Si mobilita anche la Commissione Aziende al Comune di Bari per avere delucidazioni sul futuro della sede dell'AMGAS SRL. Gli uffici della partecipata, allocati dal 2008 nelle vecchie aule dell'Istituto di Cagno a Brescia, non sono idonei a soddisfare le esigenze dell'azienda. Sia per la struttura dell'immobile, nato per ospitare studenti, sia per la posizione geografica. Lo conferma la Presidente del CDA Rosalba Cirillo che in una nota specifica ha la volontà di cercare alternative. Una volontà giustificata proprio dall'inadeguatezza della sede. Non a caso la dirigente cita l'avviso pubblico del 2013 con cui si cercava una struttura di 2000 metri quadri circa in una zona centrale che potesse ospitare almeno 80 dipendenti. Sta di fatto che da allora nulla è cambiato. Le manifestazioni di interesse pervenute, se in tutto, sono state scartate, con il risultato che si è continuate a sborsare 80 mila euro l'anno più IVA di fitto per un edificio in idoneo. E anche adesso che la volontà aziendale, come messo nero su bianco, sembra quella di un nuovo avviso pubblico, c'è qualcosa che non torna. Se l'obiettivo è quello di un cambiamento, che senso ha la nota inviata dall'AMGAS SRL ai proprietari dell'Istituto di Cagno a Brescia, in cui si chiede la conferma della proroga del contratto di locazione? C'è una contraddizione in termini. Dal 2013 dichiarano che la sede è in idonea e ad oggi non hanno posto in essere alcuna procedura per ripetire una nuova sede, se non quella di un bando precedente a cui di fatto non hanno dato seguito. Contestualmente chiedono la proroga del contratto d'affitto, quindi non si riesce a capire qual è la linea e la roadmap di questa azienda. Interventi suddivisi tra linee ferroviarie, stazioni di fermata e lavori di completamento di parcheggi di interscambio per costruire una rete metropolitana cittadina che serva ai quartieri periferici per un valore di 118 milioni di euro. Il sindaco di Bari, Antonio De Caro, ha trasmesso al ministro delle infrastrutture, Graziano Del Rio, per conto del lancio nazionale, il programma delle proposte di interventi per il sistema di trasporto rapido di massa nelle città capoluogo di area metropolitana di tutta Italia. Tra le opere previste, il prolungamento della tratta metropolitana a Bari-San Paolo fino alla stazione delle regioni delle ferrovie nord barese, una fermata a San Pio, il terminal interscambio ferrogomma su via Cifarelli, ferrovie a Pololucane e una fermata alla libertà delle ferrovie a Pololucane. Restyling di via Sparano, se il progetto andrà avanti ci incateneremo, così il fondatore del gruppo Salviamo via Sparano che ieri ha chiamato a raccolta i cittadini per l'istituzione di un comitato. Tutti i dettagli nel nostro servizio. Sit-in di protesta, incatenati o persino stesi sul pavimento di via Sparano se il progetto di restyling prenderà forma. Parola di Spiridione Palumbo, fondatore del gruppo su Facebook Salviamo via Sparano che ieri pomeriggio ha chiamato a raccolta i cittadini nella casa del mutilato per discutere sul progetto comunale al centro di polemiche che vede cambiare il volto del salotto del Murattiano. Sicuramente creeremo un comitato ristretto assegnando le competenze a chi di dovere per poter cercare in qualche maniera di fare un qualche cosa che impedisca la realizzazione di un cimitero in via Sparano. Per noi la priorità non sono le palme, è il progetto. Oltre un centinaio partecipanti alla riunione, un primo passo verso la costituzione di un vero e proprio comitato. A margine dell'incontro si è deciso di inviare una nota ufficiale al sindaco Antonio De Caro. Si chiede di sospendere la procedura di pubblicazione della gara per l'affidamento dei lavori. Ciò che proprio turba il neonato comitato non sarebbe solo l'eliminazione delle palme che tra l'altro saranno piantumate in altre zone della città, ma soprattutto la cementificazione di via Sparano con la relativa rimozione dei vasconi. Un ricettacolo di sporcizia secondo l'amministrazione comunale, un problema che, secondo il fondatore del comitato invece, potrebbe essere risolto con un pizzico di sana civiltà. Se i commercianti di Barrio, ma anche i commercianti di via Sparano o anche gli abitanti di via Sparano creassero il loro davanti oltre che il loro interno, sicuramente via Sparano. Cioè non avrebbero neanche da attaccarsi sul discorso che i vasconi sono ricettacolo di sporcizia. Immediata la risposta dell'assessore ai lavori pubblici del comune di Bari, Giuseppe Galasso, in una nota ha precisato che, come promesso, si darà voce ai cittadini. Come abbiamo sempre fatto, spiega l'assessore, ascolteremo in questi mesi i comitati e le realtà associative per recepire ulteriori suggerimenti. Ma è opportuno ribadire che sulla nuova via Sparano il progetto prevede delle vasche con un numero di piantumazioni superiore a quello attualmente presente. Intanto c'è chi attende ancora la costruzione della pedana per i disabili davanti alla chiesa di San Ferdinando. Fino a che non faranno i restyling, insomma, non avremo questa possibilità di avere l'autorizzazione per fare lo scivolo. Un milione di euro e l'abbattimento di 37 pini e il costo per la realizzazione di due nuove rotatori al rione Iapigia. Le opere saranno realizzate all'incroci di via Caldarola con via Lemania Grecia e via Salapia. La demolizione dei primi alberi intanto ha scatenato una vera e propria insurrezione tra gli abitanti del quartiere. Sui social network di Vampa Infatti la protesta contro il deturpamento del verde urbano. L'amministrazione comunale, dal canto suo, assicura la realizzazione di un'isola verde tra via Truisi e via Tenente Suglia. Servizio di lampade votive dopo il raddoppio del canone che ha creato non poche polemiche, arriva finalmente una buona notizia. Tutti coloro che usufruiscono del servizio di lampade votive al cimitero di Bari possono tirare un sospiro di sollievo. Il canone annuale, il cui raddoppio ha creato non poche polemiche, potrà essere corrisposto alla fine dell'anno e non più, quindi, entro il 31 maggio. L'importo rimane fissato sui 16 euro all'umino ma almeno si avrà più tempo per mettere da parte il totale che dovrà comprendere, lo ricordiamo, anche l'adeguamento dello scorso anno. La nuova disposizione che ha fatto indignare soprattutto coloro che mantengono in servizio per più di un defunto ha dato luogo poi a diverse disdette. Ho chiesto la settimana scorsa alla società di darci la possibilità, di dare la possibilità a tutti i cittadini di pagare il canone non entro il 31 maggio così come è precedentemente indicato, ma entro il 31 dicembre anche in considerazione del fatto che erano stati chiesti non soltanto il canone attuale ma anche l'adeguamento di quello del precedente anno. La società ha consentito a questo tipo di dilazione e quindi potremo procedere in questo modo. E il Vice Sindaco Assessore al Patrimonio Vincenzo Brandi assicura stiamo anche cercando di capire se è possibile rivedere la cifra e soprattutto preannuncia controlli. Pare infatti che anche sul servizio di lampade votive alleggi lo spettro dell'abusivismo. E ora una notizia di cronaca. sorpresi dalla polizia di Stato mentre cercavano di rubare un'auto. È accaduto la scorsa notte nel garage di un condominio di Via Giulio Petroni. I poliziotti della squadra volante hanno notato due persone sospette nei garage sotterranei di un condominio. Gli agenti hanno trovato un uomo con volto coperto che stava armeggiando all'interno di una Smart di colore blu. I pezzi dell'auto smontati erano ancora presenti all'interno dell'abitacolo. A seguito di una perquisizione sono state ritrovate anche centraline elettroniche, un volante, uno scaldacollo ed un paio di guanti da lavoro. Tutti oggetti utilizzati per tentare il furto dell'autovettura. L'uomo si trova ora agli arresti domiciliari. Il mestiere del futuro sicuramente nel mondo dell'alta tecnologia. Lo sanno bene i ragazzi della seconda E della scuola De Marinis, vincitori del progetto di orientamento scolastico promosso da Confcommercio Bari e Bat. Questa mattina la premiazione e noi abbiamo incontrato il direttore. Confcommercio punta sui giovanissimi per in qualche modo indirizzarli nel mondo del lavoro? Confcommercio punta sulla formazione, più che sui giovanissimi. Questo è un test, è un progetto pilota che ha promosso Confcommercio nazionale. Bari è una delle dieci province che è stata prescelta e parte un po' dal mondo della scuola inferiore, proprio dei ragazzi, per trasferire a loro il senso di conoscenza, quella più attinente alla loro età, su quelli che sono gli aspetti che bisogna in qualche modo conoscere prima di approcciarsi a un lavoro, in questo caso il lavoro del terziario, del commercio che noi rappresentiamo. Un modo nuovo, un modo sicuramente di voler trasferire, come dicevo prima, a tutti i livelli quel senso di capacità di formazione, che come ho detto prima da un suo collega, non riguarda soltanto il monto di chi va a scuola, la formazione oggi interessa anche chi sta sul mercato, il commerciante ha bisogno di conoscere tecniche diverse, modi diversi di approcciarsi sul loro modo di gestire la propria azienda, se è vero come è vero che tutto sta cambiando, pensiamo al commercio elettronico, a internet, oggi tutto diventa relativo rispetto a quello che prima era tutto positivo nella gestione della propria azienda. Presentata questa mattina nella sala giunta di Palazzo di Città, la serata di premiazione della seconda edizione del premio letterario Fortuna d'Autore, il concorso nazionale di letteratura e lingua italiana promossa dall'Associazione Culturale Compagnia d'Autore. La premiazione avverrà sabato 28 maggio alle 21 sulla terrazza del Fortino Sant'Antonio, come spiegato dalle organizzatrici Mariella Lippo e Maria Passaro del comitato organizzatore. In apertura una speciale esibizione della zanzatrice aerea Elisa Barrucchieri alla conferenza stampa sono intervenuti il presidente della Commissione Consigliare Culture del Comune di Bari, Giuseppe Cascella, e il vicepresidente Filippo Melchiorre. Ed è incantato la Tosca durante la sua prima ieri al Teatro Petruzzelli, oggi la seconda replica del dramma Puccignano, firmato Giovanni Agostinucci. Servizio. Drappi grigi, pochi dettagli e molti elementi architettonici. Si alza così il sipario sulla prima della Tosca di Giovanni Agostinucci. Per il maestro il Petruzzelli non è un luogo sconosciuto, il dramma Puccignano è la terza opera in scena al Politeama Barese che porta la sua firma. E una prima invece per il direttore d'orchestra, il giovane Giampaolo Bisanti, sul podio fino al 27 maggio. Poi passerà la staffetta al maestro Giuseppe Lamalfa. Una Tosca, quella in cartellone per la nuova stagione della Fondazione, incentrata sì sulla figura dell'eroina matura e dell'amante focosa, ma soprattutto sull'architettura astratta, universale, che accenna soltanto ai palazzi e ai luoghi di Roma in cui la scena si svolge. Ad ispirare Agostinucci, che ha curato anche scene, costumi e luci, i maestri dell'arte, da Vitruvio a Michelangelo. Una scena che vive in virtù della psicologia dei personaggi. I rapporti umani sono proiettati nei diversi stili e periodi pittorici, tutto però all'insegna della libertà, irrinunciabile valore da perseguire anche a costo della vita. Da oggi fino a venerdì si replica alle 20.30, dopo la pausa di sabato si riprende domenica 29 alle 18, si è registrato già tutto esaurito. E di nuovo alle 20.30, da lunedì 30 fino a mercoledì 1 giugno. E per questa edizione è tutto, in chiusura come di consueto vi ricordo i nostri siti internet telebari.it e radiobari.net per tutte le vostre segnalazioni, il nostro indirizzo di posta dedicato infochiocciolalsegnodizorro.it E ora vi lasciamo al meteo, grazie per averci seguito. Un cordiale saluto da Alex Aguarini di Trebimeteo. Nel corso di mercoledì l'alta pressione si rinforzerà con più decisione sul bacino del Mediterraneo, garantendo bel tempo prevalente, tempo generalmente stabile. Sull'Italia il cielo sarà quindi in gran parte sereno a poco nuvoloso, da nord a sud dello stivale, con temperature che cominceranno a salire. Al sud il cielo sarà sereno su tutti i nostri settori e vi ricordo che da mercoledì in poi le temperature, soprattutto dall'estremo sud, si alzeranno di parecchi gradi, andando anche al di sopra dei 30 gradi. Vi aspetto per aggiornamenti in tempo reale su trebimeteo.com Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.